Dunque lutto e profondo cordoglio in Sicilia e non solo, nella cultura e nella storia dell'isola, a seguito della trancica morte dell'assessore ai beni culturali della regione siciliana, Sebastiano Tusa, 66 anni, di Palermo, vittima dell'incidente aereo in Africa al mattino, di domenica 10 marzo. Tusa, archeologo di fama internazionale, già soprintendente del mare della regione sicilia, è stato diretto a Malindin, Kenya, per una conferenza internazionale su di un progetto dell'UNESCO. Dall'11 aprile del 2018 è stato assessore nella giunta Musumeci. Quanto accaduto ha comportato la sospensione dello spettacolo conclusivo della 74esima edizione del mandorle in fiore nella valle dei templi di Agrigento, innanzi alla Tempio della Concordia. Non si sono svolte le esibizioni di ciascun gruppo sul palco, no a musiche e danze. Solo la premiazione, in silenzio e in rassegna, dei gruppi partecipanti, a testimonianza di un doveroso e profondo omaggio, alla memoria di una personalità che ha reso i beni culturali, la loro difesa e valorizzazione, la propria missione di vita. Dopo gli interventi commossi e attoniti sul palco dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, Roberto Lagalla, e del sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, accompagnati dal rappresentatore Gianfranco Iannuzzo, è stato consegnato il Tempio d'Oro, spettante al gruppo vincitore. Ha vinto il gruppo della Bolivia. Ascoltiamo dunque gli interventi. L'assessore Lagalla Io ho veramente molta difficoltà a rivolgermi a tutti e a ciascuno di voi oggi. Lo faccio con la tristezza di chi oggi ha perso un grande ed antico amico, lo faccio col rammarico di chi sa che la Sicilia e il governo della regione hanno perso oggi un esponente non solo autorevole, ma colto, appassionato e buono. Io credo che oggi in una straordinaria quanto improbabile ed incredibile coincidenza la tragedia che ha colpito Sebastiano ed altre 157 persone appartenenti a 33 nazionalità diverse, tra cui otto italiani, avviene nella giornata in cui si sarebbe dovuta festeggiare e in qualche modo si celebra la conclusione di questa Sagra del Mandorlo in Fiore. In questa straordinaria e bellissima Valle dei Templi, tanto cara a Sebastiano, che poi da uomo di cultura prima e da uomo di governo poi, ne ha sempre curato immagine, storia e assumendone nelle settimane e nei mesi scorsi anche la responsabilità politica. Ecco, io credo che essere qui insieme significa ritrovarsi come comunità. Voglio ringraziare gli organizzatori, il parco, il sindaco e la città di Agrigento, così come il signor prefetto e il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il quale ci siamo riuniti prima dell'orario fissato per l'inizio di questo evento e abbiamo convenuto che non fosse giusto, forse, non condividere tutti insieme come comunità che sa essere gioiosa ma anche pensosa e solidale, un momento che appartiene a tutti e che non è e non può essere privato perché è lutto ed è dolore pubblico, ma al tempo stesso lo facciamo con la compostezza e la sobrietà che non solo ci ricorda i comportamenti e gli atteggiamenti di Sebastiano ma che sono dovuti in un momento in cui sentiamo di dover essere vicini alla famiglia, a quanti hanno perso un amico, a quanti non potranno più avvalersi della competenza e della capacità straordinaria di uno scienziato e di un uomo di cultura. La Sicilia ha perso qualcosa, tutti noi abbiamo perso qualcosa, ma vuol dire che insieme e anche in memoria sua potremo fare ancora di più. Grazie, grazie per la vostra comprensione. E adesso il sindaco Calogero Firetto. La città perde un amico, perdo un amico, ma la città perde un amico che stava accompagnando questo percorso di crescita culturale di grande significato non solo per la Sicilia ma vorrei dire per il paese. Grazie.